ebbene carissimi amici ben ritrovati sul mio canale youtube una buona serata a tutti voi siamo nel dopo estrazione prima estrazione mensile martedì 2 aprile quindi partiamo con il nuovo mese di gioco quello di aprile 2024 e vediamo cosa è successo in questo quadro estrazionale che dà delle basi forti e segue il filo conduttore della fine del mese di marzo perché io continuo a confermarvi per quanto riguarda il 90 secca unica la ruota di bari ed affiancare la ruota di cagliari perché cagliari porterà la grande ripetizione del 90 e bari lo porterà alla grande questa sera sulla ruota di cagliari ambo in cadenza 34 64 unito ambo diametrali in decina unito 34 39 e gemello in terza posizione dice sì al 90 quindi cagliari palermo bari porta il 36 di figura 9 e il 66 che è un segnalatore va in cadenza unita col 36 quindi sono due ruote favolose che vedrete anche nel mese di aprile porteranno un grande 90 quindi chi vuole può giocarlo su queste due ruote anche quarta e quinta posizione il metodo favoloso la data centra l'82 sulla ruota di bari l'82 era lambata della settimana scorsa ma io la faccio continuare al secondo colpo perché questa è la seconda volta che lambata dal sabato della settimana scorsa ci esce al martedì e io la faccio continuare e tanti di voi ne ha portato a casa lambata del metodo lotto la data sulla ruota di bari estrazione di questa sera 2 di aprile ok perché l'82 era lambata dalla settimana scorsa continuata al secondo colpo non ce la andiamo a mettere in tasca ok lambata di questa settimana è il 60 ok ma noi la continuiamo anche al martedì perché se non dovesse uscire entro sabato è probabile che poi la vinciamo al martedì come è successo con l'82 questa sera metodo incredibile cari amici quante vincite si sta facendo ottenere il metodo lotto la data non ha mai sbagliato finora vi do un solo abbinamento ambo e ambetto da giocare sulle ruote di bari cagliari vi ho dimostrato come dal calcolo della data di estrazione si può estrapolare una previsione vincente di ambata di estratto determinato di ambo e di ambetto quindi non perdete assolutamente il metodo lotto la data 348 75 47 715 il mio numero whatsapp al quale potete contattarmi per avere nella modalità vincita venuta con pagamento solo alla vincita di ambo di ambetto del metodo lotto la data è un metodo fantastico è un metodo super vincente e questa sera ancora una volta l'ha dimostrato quante vincite ci siamo portati a casa settimana per settimana con questo metodo quindi attenzione bene metodo lotto invece la data plus è un'altra bomba e questa settimana abbiamo il 30 bari cagliari seconda e quarta posizione per chi vuole giocarlo anche qui stesso discorso unico abbinamento ambo e ambetto da giocare con la pagamento alla vincita nella modalità vincita venuta quindi mi raccomando partiremo con un nuovo mese di gioco anche per quanto riguarda i miei metodi mensili quindi attenzione bene chi vuole acquisire il singolo metodo il pacchetto metodi completo può farlo contattandomi sempre via whatsapp sono metodi sempre vincenti sempre efficaci e che ci danno sempre soddisfazioni anche questa vincita dell'82 questa sera cosa dimostra dimostra soltanto una cosa quello che dico sempre che nel gioco dell'otto la costanza nel gioco è l'unica arma che noi abbiamo è l'unica arma è l'unica regola per vincere al gioco dell'otto costanza e fiducia nel gioco i risultati arrivano la costanza nel gioco di seguire le previsioni i risultati arrivano ambo sotto controllo ambata 35 bari cagliari terza e quinta posizione mi raccomando per aprile vi darò soltanto due ambi su due ruote con pagamento alla vincita anche qui per avere la previsione impegno di giocata da parte vostra accettazione della modalità e pagamento alla vincita un quadro estrazionale che vede ancora le ruote di bari cagliari con continue ripetizioni numeriche sono continue le ripetizioni su queste due ruote lo scambio tra le due ruote abbiamo visto per esempio il 15 di cagliari che questa sera è ritornato per dirne una questo 36 che continua a sortire arriva su bari questa sera ma questo 36 noi lo troviamo anche per esempio sulla ruota di palermo in isotopia con bari figura 9 lo troviamo su torino isotopia perfetta in quarta posizione bari palermo torino su torino abbiamo un bel 90 con le mie spie le mie spie sono ancora attive alla grande un solo estratto cinque ambi unica ruota metodo che rimane sempre vostro pagamento alla vincita dell'ambo secco mi raccomando perché con le mie spie vi ho fatto stravincere immensi 90 e lo avete visto abbiamo vinto il 90 a cagliari il 30 di marzo abbiamo vinto il 90 a genova il 29 di marzo abbiamo vinto il 90 a firenze il 28 di marzo 3 90 secchi vinti dalle mie spie in presentazione sul mio canale ed è tutto testimoniato quindi non perdete i miei metodi spia perché arrivano grandi vincite chi li ha seguiti si è messo in tasca diversi ambi secchi quindi attenzione a contattarmi sempre via whatsapp il numero lo trovate sempre in descrizione 348 7547 715 ormai lo conoscete genova 89 anche qui annuncio di 90 89 49 ambo in cadenza 89 segnalatore ambo distanza 1 48 49 l'86 quindi genova andrà in ripetizione cagliari andrà ripetizione ambo vertibili unite su firenze 16 61 poi abbiamo l'86 anche su milano l'ambo distanza 2 65 67 il 18 di figura 9 il 6 a napoli in terza posizione molto interessante molto incisivo con la cadenza 6 unita 6 26 palermo porta la figura 9 36 segnalatore 5 ambo di cadenza 13 73 89 segnalatore ce ne sono di ruote del 90 che era amici palermo forte napoli forte genova forte cagliari forte bari forte ce ne sono un sacco vedrete il 90 arriverà raffica nel mese di aprile ma io vi do due ruote bari e cagliari vedremo poi con il 90 segreto cosa arriverà il 90 segreto che ho fatto vincere due volte il 90 a milano per un punto abbiamo sfiorato l'ambo secco attenzione che il 90 segreto gioca un solo ambo un solo ambo su due ruote unica giocata mensile anche qui pagamento alla vincita ambo di cadenza che su torino 61 71 il 36 anche qui figura 9 figura 9 anche su venezia diagonale con torino e ambo di cadenza 1 anche nazionale 41 71 la bellissima figura 9 in prima posizione quindi torino forte nazionale forte quindi state attenti perché aprile parte con il botto e vedremo diversi 90 sortire vi ho detto che tra la fine di marzo inizio di aprile arrivano diversi 90 cosa è successo alla fine di marzo 28 29 e 30 tutte e tre le estrazioni hanno presentato il 90 e vedrete cosa succederà all'inizio di aprile magari già questa settimana quindi chi vuole l'unica ruota gioca il 90 bari chi vuole la doppia ruota gioca il 90 bari cagliari vedremo se il 90 segreto mi confermerà queste ruote o me ne darà altre ma ci diamo appuntamento l'estrazione di giovedì 4 di aprile vedremo cosa andrà a succedere intanto queste sono le situazioni più eclatanti di questo quadro estrazionale mi raccomando al metro la data mi raccomando al metodo di dia vincente altro capolavoro un ambosecco su tre ruote si paga sempre alla vincita modalità vincita venute siamo stati super vincenti anche nel mese di marzo tanti se lo ricordano il bellissimo ambosecco 6 62 vinto a genova il 16 di marzo vincita esplosiva quindi sono due metodi da giocare sono due metodi da giocare c'è poco da fare idea vincente e la data sono due metodi da giocare nella modalità vincita venuta per di più la previsione l'avete gratis ve la do gratis faccio pagare alla vincita voglio dire più di questo non si può fare quindi sono due capolavori che nel mese di marzo sono andati con il turbo fortissimo quindi mi raccomando scegliete chiaramente quello che più fa per voi a livello di giocata a livello di vostre esigenze di gioco ma mi raccomando a portare avanti le previsioni perché chi ha mollato le previsioni e posso citare la data idea vincente gemello vincente ha perso gli ambi gemello vincente un altro capolavoro anche qui un ambo su tre ruote come dia vincente si paga alla vincita mi raccomando contattatemi via whatsapp per avere i miei prodotti partiamo con un nuovo mese di gioco chi vuole giocare le spie gioca le spie chi vuole giocare dia vincente o super tris o gemello vincente lo può giocare chi vuole giocare la data giochi la data chi può giocare più prodotti insieme li giochi in base alle vostre possibilità chi ne può giocare uno due ne gioca uno o due è la stessa cosa sono prodotti forti con la costanza si arriva alla vincita su questo non ci sono dubbi notate su bari cagliari questo bel quadrato di cadenza 4 e 9 tra l'altro la cadenza 4 la cadenza 9 sono diametrale in decina perché 9 e 4 che abbiamo 74 34 29 39 quindi è una bellissima situazione a quadrato di cadenza molto bella sulle ruote di bari e cagliari vedrete come su queste due ruote arriverà il 90 e potrebbe arrivare anche in contemporanea su entrambe le ruote nella stessa estrazione state attenti a ciò che vi dico perché sono due ruote che rimangono potentissime per questo 90 per adesso un saluto a tutti mister sbancolotto